Tra le più attese l'esibizione della Minardi di Posto, gestite direttamente da Giovanni Minardi e guidate dai piloti Lanceri e Bobby. Diciamo che abbiamo voluto costituire un evento in modo da far divertire VIP e non solo VIP, perché ovviamente il circuito non è un circuito di formula, quindi non può dare le sensazioni purtroppo reali che potrebbe dare questa macchina, però sicuramente divertente, è un'emozione, penso e credo molto interessante da provare. Vogliamo farci comunque un pochettino di pubblicità per questo tipo di evento qui e direi che il Motor Show è il posto migliore per fare questo. Anche Rani fra gli ospiti del Minardi Team, per un'emozione diversa dal solito. Sì, è un modo comunque per salire su una Formula 1 che non avevo mai potuto farlo. Devo ringraziare Giancarlo Minardi perché esserci non mi era mai capitato, è stata veramente una cosa piacevole. C'è da dire anche perché poi anche col marchio Minardi, perché sarà quest'anno e probabilmente sappiamo già che il prossimo anno non sarà più così. Perciò è un evento doppio. Sicuramente in un percorso come al Motor Show di Bologna, una vettura del genere non può fare vedere le prestazioni che ha, anzi è molto penalizzata, però l'accelerazione alla frenata è evidente, soprattutto a differenza delle macchine da rally, è una differenza enorme. Il pilota romagnolo con licenza monegasca è ormai pronto per la sua gara con la Skoda WRC.